Musica Primeramente perché è il mio hobby, non lo faccio tanto come un vicio, ma come un'entretenimento, quando non c'è una cacette subo un rato al techo e vedo i palomoni, mi piace come compiti e provo che i palomoni sia meglio. Il furore della paloma in realtà è che si sta vendendo molti palomoni per fuori. In USA sta vendendo molta gente a comprare palomoni e la gente vuole vendere. Molta gente vuole criei palomoni e comprare palomoni a buoni animali, sacare pichoni che li vedano volando, che prendano palomoni per provare a vendere palomoni. È quello che la gente sta cercando ora. È tutto per il raggio e per il vicio. Ora stiamo, tutti stiamo fuori con la paloma perché ha avuto un pochino più di palomoni. Grazie. 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 Grazie.